Saluto voi tutti e ringrazio Enzo Iacopino per le parole di apprezzamento che ha voluto rivolgervi e per il distintivo di cui mi ha insegnito. Io ho voluto che ci fosse questo incontro anche se siamo in un periodo molto particolare per due ragioni, siamo in campagna elettorale a fine legislatura e siamo, sono a fine mandato e l'effetto congiunto di queste due circostanze oltre a rappresentare un carico particolare di impegni in questa fase mi impone anche un senso del limite che osserverò. D'altra parte noi in altre occasioni ci siamo incontrati nel corso di questi anni sistematicamente e abbiamo molto discusso di certi problemi che riguardano precisamente il modo di fare informazione, la correttezza e il ruolo dell'informazione, regole deontologiche e così via. Io non tornerò su questi temi, dico solo che qualche aspetto di quella tematica anche in questo momento per ragioni che comprendete lo sento molto ed è l'aspetto dei rapporti tra stampa e amministrazione della giustizia. Abbiamo spesso degli effetti non positivi, quasi dei cortocircuiti tra informazione che tende ad avere il massimo di elementi per poter assolvere a un ruolo che sia di propulsione alla ricerca della verità e nello stesso tempo riservatezza necessaria delle indagini giudiziarie rispetto del segreto di indagine. Proprio ieri noi abbiamo assistito a qualcosa del genere, cioè ad un richiamo piuttosto brusco di un importante ufficio giudiziario, la Procura della Repubblica di Siena che segue, voi sapete quale scottante e complessa indagine su quello del Monte dei Paschi, di fronte alla pubblicazione di notizie che ha dichiarato totalmente infondate e di cui ha anche fatto comprendere la grave possibile ricaduta destabilizzante sui mercati, al punto da annunciare o da ventilare provvedimenti per aggiotaggio e insider trading. Insomma questo è un punto delicato di una materia tutta delicata che abbiamo discusso, io francamente non pretendevo nulla, non mi aspettavo nulla, lei ha detto forse non abbiamo sempre corrisposto alla sua attesa, io ho posto dei problemi e dei problemi che richiedono per una loro corretta soluzione, parlo dei problemi di una informazione che assolva pienamente la sua funzione nel nostro Paese nel rispetto dello Stato di diritto e è evidentemente essenziale l'apporto anche personale e collettivo attraverso l'ordine e attraverso la federazione della stampa dei giornalisti. Ma oggi noi parliamo essenzialmente di questo importante cinquandesimo anniversario che è legato ad una legge che porta in nome di Guido Conella e vale la pena di ricordare forse che la caratteristica di Guido Conella fu quella di entrare nell'attività politica come giornalista, non poteva fare altro e poteva farlo solo in certi modi durante quel periodo, gli ultimi anni del fascismo, infatti il giornale a cui poté collaborare fu l'osservatore romano con i famosi Acta Diurna e credo che quella esperienza comunque iniziale di giornalista che così si avvicinava in una condizione molto costretta alla tematica, alla problematica politica ha anche ispirato poi la definizione di una iniziativa di legge la quale senza dubbio richiede una rivisitazione su questo, non c'è dubbio, in generale sono molti cinquant'anni, ma il fatto è che in questi cinquant'anni direi soprattutto negli ultimi vent'anni forse possiamo periodizzare così c'è stato un autentico sconvolgimento anche tecnologico e dal punto di vista della economia dei mezzi di informazione di questo settore e quindi non solo l'ingresso massiccio dell'informazione televisiva più che radio televisiva, perché l'informazione radio da ben più lontano esercita un ruolo importante, forse quello che si è sottovalutato negli ultimissimi anni è il perdurare e in un certo senso anche il rinvigorirsi di un ruolo dell'informazione radio, si è concentrata l'attenzione solo sulla televisione, la radio anche con margini interessanti di indipendenza continua ad avere una funzione importante e questa funzione ce l'ha poi in modo particolare una radio come quella che si richiama alla figura dei Siani, all'impegno della lotta contro la Camorra, credo che sia veramente qualcosa di molto molto rilevante anche questo, battere e ribattere sul dato la Camorra esiste, non bisogna negarla, occultarla e bisogna combatterla, quando in novembre sono stato a Napoli e ho incontrato la compagna di quel giovane ucciso per errore, bestialmente, io ho trovato tra l'altro una reazione straordinaria in questa giovane donna, una reazione il cui punto fermo era, dobbiamo ripetere, ogni giorno la Camorra esiste e siccome tante volte sentiamo anche questi brandelli di interviste volanti alla televisione che ci fanno rabbrividire, non ho visto niente, non so niente, eccetera, la funzione di una radio come quella che lei dirige è veramente molto significativa. Ma dunque tutto è cambiato e rischiano poi i giornalisti di pagare le conseguenze di un mancato adeguamento delle norme alla realtà e questo mi pare il punto essenziale. Il Ministro Severino ha detto con grande puntualità e serietà quali siano i problemi da affrontare in modo particolare in materia di professioni, di alcune professioni, il problema dell'accesso e il problema di condizioni che siano garantite, obiettive, che non siano affidate da un lato come dire all'arbitrio di chi ha l'esercizio del potere economico sui mezzi di informazione e dall'altro ad una condizione di debolezza dell'aspirante giornalista che diventa una condizione diciamo di fatale sottomissione al ricatto e di senso di fatale precarietà e mancanza di prospettive e credo che questi temi debbano essere messi al centro. Certo sono temi anche proprio di politica del lavoro in generale perché il tema della precarietà investe tante realtà del nostro Paese ma la precarietà dei giornalisti o l'arbitrarietà, l'abilità delle condizioni a cui molti più giovani soprattutto sono esposti oggi costituisce una questione direi a sé stante, è una questione che va trattata nei suoi termini propri, nei suoi termini peculiari. Io farò del mio meglio, naturalmente come sapete sto per concludere il mandato, quindi i verbi li posso relativamente declinare al futuro e anche il Ministro Severino ci ha parlato di quello che toccherà fare al nuovo governo, al prossimo governo, però siamo in grado no Ministro, di trasmettere dei testimoni al governo che sarà, al Presidente che mi succederà e tra i testimoni che vogliamo passare ci sono anche queste questioni che avete oggi messo all'attenzione nostra con questa iniziativa. In questo spirito io vi rinnovo il senso del mio impegno, poi comunque in ogni caso da modesto senatore qualcosa potrò ancora dire e fare. grazie a voi. applausi 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 applausi